Un saluto amici di Esperienza Mobile, oggi siamo qui per recensire Honor 6X. Honor 6X è il nuovo dispositivo di fascia media presentato da Honor al CES di Las Vegas. Dispositivo di fascia media che però non sembra in quanto il corpo è totalmente in metallo. Le uniche due parti non in metallo sono gli inserti superiori e inferiori qui sulla back cover. Back cover che non è rimovibile, quindi batteria non rimovibile, ma della batteria parleremo un po' più avanti. Ruotando lo smartphone nella parte frontale troviamo un ampio display da 5,5 pollici, full HD IPS LCD. Il display è molto luminoso, si riesce a vedere molto bene sotto la luce del sole. C'è anche una modalità secondo la quale il telefono illumina di più lo schermo quando il sensore di luminosità viene colpito direttamente dalla luce del sole. Lo schermo è molto ampio, molto comodo per furire dei contenuti multimediali come foto, video o applicazioni. L'ampio display e i bordi generosi nella parte superiore e inferiore del dispositivo rendono questo telefono scomodo da utilizzare ad una mano sola, anche se la stonatura nella parte posteriore aiuta leggermente la presa. Il design ricorda molto quello di Huawei Mate 9, infatti su internet qualcuno lo ha definito anche come Mate 9 Mini e ha ripreso dal fratello maggiore la maggior parte degli elementi di design della parte posteriore, comprese le fotocamere sporgenti. Dual camera posteriore che non funziona come quella di Honor 8 o di Huawei P9, infatti non sono un sensore bianco e nero 1 a colori, ma sono due sensori, uno da 12 megapixel che scatta effettivamente la foto e l'altro da 2 megapixel che serve a riconoscere la profondità di campo. La fotocamera frontale invece da 8 megapixel. Entrambe le fotocamere fanno foto abbastanza buone con luce adeguata, quando si scende a luminosità basse, quindi al buio, foto senza flash e anche con flash vengono invece con molto rumore. L'effetto bokeh comunque creato con questa fotocamera è comunque un effetto software creato dall'applicazione che prende i dati delle due fotocamere e li unisce, in certe foto scattate in questa modalità i bordi non sono così definiti e quindi si vede proprio che è un effetto creato software che non è la lente a creare la sfocatura. Cosa che mi ha fatto piacere trovare su questo dispositivo è l'audio nella parte inferiore che è invertito rispetto alla maggior parte dei telefoni che ho provato finora, infatti non abbiamo a destra il microfono e a sinistra lo speaker di sistema, ma sono invertiti, quindi quando andremo a impugnare il telefono in questo modo per giocare e per appunto guardare video non andremo a tappare con la mano lo speaker di sistema. Che poi parliamoci chiaramente, l'audio di Honor 6X dal jack audio, quindi utilizzandolo con cuffie o come faccio io collegato ad un impianto per auto, è buono, quindi l'ascolto tramite cuffia non vi darà di sicuro nessun problema. I problemi potreste averli con l'audio tramite l'altoparlante principale, infatti la potenza è buona ma il suono è molto piatto e abbiamo bassi praticamente inesistenti. Al centro troviamo la porta micro USB, Honor ha deciso di tenere questa porta a non passare all'USB tipo C anche perché è un telefono di fascia media e quindi la maggior parte dell'utenza ha già in giro per casa moltissimi cavi, dati e cavi di ricarica con la presa micro USB. Sotto le due fotocamere troviamo anche il lettore di impronte digitali tipico di Huawei. Il lettore è veramente veloce, riconosce l'impronta 9 volte su 10, anche quella volta che manca il riconoscimento non abbiamo nemmeno il tempo di sollevare il dito, di riappoggiarlo che ha già riconosciuto l'impronta nonostante ci abbia dato l'avviso che la prima volta non l'abbia riconosciuta. Per quanto riguarda l'hardware troviamo praticamente un P9 Lite leggermente migliorato, ha un hardware che è veramente simile al nuovo P8 Lite 2017, troviamo un sistema una chip Kirin 655 Octa-Core supportato da normali T830 MP2 e da 3 o 4 GB di RAM in base al modello che andiamo a scegliere da 32 GB o da 64 GB. Il modello che abbiamo noi in prova è quello da 32 GB di memoria interna e 3 di RAM. La memoria è comunque espandibile, tramite il carellino ibrido abbiamo la possibilità di inserire due SIM oppure una SIM e una scheda di memoria microSD. Il software a bordo è Android 6.0 Marshmallow con personalizzazione EMUI 4.0, è già disponibile alla beta di Nougat con EMUI 5, verrà rilasciata a tutti nel più breve tempo possibile. Il telefono comunque risulta veloce, scattante, non ho mai avuto impuntamenti di nessun tipo nel mese che l'ho potuto utilizzare, le applicazioni si aprono con una velocità estrema per un telefono da 250€, le prestazioni anche nei giochi sono buone, ho potuto giocare a Real Racing e anche a CSR2 che sono due giochi molto impegnativi dal punto di vista grafico senza nessun tipo di problema, anche il multitasking è molto veloce. Punto di forza di questo smartphone, oltre all'ottimo rapporto qualità-prezzo troviamo la batteria di lunghissima durata, 3340 mAh che combinata al processore a basso consumo garantisce una durata della batteria veramente infinita. Si fa davvero fatica ad arrivare a fine giornata con la batteria scarica, con un utilizzo leggero si possono addirittura raggiungere le due giornate. Telefono che consiglio a chi non ha un budget molto alto ma comunque vuole un telefono che abbia un ottimo design, una buona qualità costruttiva, potrebbe tranquillamente essere un best buy su questa fascia di prezzo se solo non fosse arrivato appunto il cugino di questo modello che è Huawei P8 Lite 2017. Due telefoni molto simili per quanto riguarda l'hardware invece incredibilmente diversi per quanto riguarda l'estetica e il design. E anche per questa recensione è tutto, vi ricordo che potete trovare la recensione scritta sul nostro sito esperienzamobile.it Seguiteci sui social che siamo molto più presenti nell'ultimo periodo sui social come Instagram, Facebook e Twitter. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Per questa recensione è tutto, un saluto da Luca.